Rimane solo il Consiglio di Giustizia Amministrativa a Rosario Crocetta e all'Associazione Arcipelago. Se anche il CGA dovesse respingere il ricorso, il Governatore e il resto dei candidati della lista a Messina, che fa riferimento a Micari, saranno definitivamente esclusi dalla corsa per l'Assemblea Siciliana. Dopo il TAR di Catani, anche quello di Palermo ha confermato la decisione dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Messina di escludere la lista guidata da Rosario Crocetta, unico collegio dove il Governatore si è candidato per il ruolo di parlamentare. I giudici amministrativi del capoluogo hanno respinto i due ricorsi depositati da Crocetta e dall'Associazione Arcipelago. Amaro il commento del Governatore, rispetto la legge e le sentenze, mi farò una ragione di questa esclusione, risparmierò i soldi della campagna elettorale. Ero candidato nell'interesse della coalizione, se qualcuno ha sbagliato se ne assumerà le responsabilità e lancio un messaggio al suo partito. Sono stato leale con il PD e la coalizione di centrosinistra, ho accettato i sacrifici che mi sono stati chiesti, mi auguro che il mio partito dimostri nei miei confronti la stessa lealtà in futuro. Vorrò essere anche ricordato ai cittadini come una delle persone più unitarie del centrosinistra. Annunciando il ricorso al CGA, il candidato per il centrosinistra Fabrizio Micari dice se la decisione non sarà positiva avremo 240 candidati all'Arsa e non 248. Sarà comunque un gruppo competitivo. Le nostre liste sono forti. Intanto la Commissione Antimafia, guidata da Rosi Bindi, ha sentito in Prefettura Palermo, in audizione responsabili degli uffici elettorali centrale e periferici e i prefetti dell'isola per acquisire le prime valutazioni dei soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure elettorali nell'ambito delle attività di monitoraggio sulle liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo dell'Arsa. In primo luogo risultano troppo brevi i tempi a disposizione degli uffici competenti per svolgere controlli sul rispetto delle condizioni di candidabilità previste dalla cosiddetta legge Severino, che in Sicilia, peraltro, la sua prima applicazione spiega l'antimafia, che aggiunge anche in questa occasione si registra l'inadeguatezza delle banche dati giudiziarie e le difficoltà di acquisire certificati penali dei candidati per verificare le autocertificazioni. Claudio Fava e Giancarlo Cancelleri, candidati per il centro-sinistra e per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione siciliana, hanno consegnato a Rosi Bindi due distinti dossier su cosiddetti impresentabili. Il lavoro di monitoraggio avviato con le audizioni sottolinea antimafia proseguirà con la collaborazione delle prefetture e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.